Sono Marco Fedele, brand ambassador di Molinari e oggi entriamo nel fantastico mondo di Pruidilabic ma prima di entrare all'interno della distilleria ho sempre pensato che sia da bartender che da cliente per conoscere e amare un prodotto bisogna parlare e entrare nel mondo interno quello che può essere la terra d'origine e sì, proprio la terra d'origine è colei che rispecchia il carattere del distillato stesso Ci troviamo nelle Ailei Ailei è la regina delle isole ebridi ed è il primo obiettivo da visita provenendo dalla costa atlantica Un'isola molto particolare tra nebbia, tempesta e coste rocciose Ci troviamo nella baia di Lockheedal dove tutto ebbe inizio 1881 dai fratelli Harvey ma purtroppo come tutte le storie d'amore c'è sempre qualcosa che interrompe il cammino fino alla fine Dopo tante ma tante chiusure e riaperture nel 94 quando avevo tre anni fu acquisita la distilleria da dei personaggi abbastanza importanti che credettero nel territorio e non videro quello che era la distilleria abbandonata ma pensarono che tutto quanto potesse avere un risveglio Risveglio chebbe inizio soprattutto nel 2012 quando da parte di Rémy Contrò venne acquisita un'intera distilleria Era un cambio, un passo che doveva succedere con un grosso investimento La fortuna è che Rémy Contrò sposava bene la filosofia che si celava dietro Bridladic filosofia importante, con delle basi ben solide ovvero quello del progresso quindi tramite innovazione, scienza e organizzazione ma valorizzando sempre quello che è il territorio circostante ovvero l'isola d'appartenenza Prodotti in loco con 100% di orzo scozzese raccolto dai nostri agricoltori nelle zone limitrofe acqua sorgiva proveniente da qualche chilometro dopo la distilleria il tutto senza aggiunta di zuccheri, non filtrati a freddo con una maturazione all'interno della distilleria sulla baia di Lockhindal Grazie a tutti